ciao oggi mi trovo qui nel bellissimo giardino della minerva che risale al 1400 si affaccia sopra i tetti del centro storico di salerno pensa che prima della pandemia ha ospitato in un anno più di 50.000 visitatori tra turisti stranieri italiani infatti proprio qui intorno sono nate delle bellissime strutture che offrono soggiorno ai turisti che desiderano vivere nell'atmosfera più autentica del posto i prezzi per notte variano dai 50 ai 110 euro a seconda della stagione dei comfort della struttura se sei interessato a investire in questo mercato qui a salerno proprio qui vicino ho disponibile in vendita un bilocale davvero speciale con ingresso indipendente e un terrazzino seguimi che te lo presento ciao carina vero se sei interessato a investire in questo mercato e vuoi più informazioni puoi cliccare sul link che troverai sul post ciao 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 ciao